Mi illumino di Ovidio, con questo slogan è stato portato a compimento il murale ovidiano, un progetto promosso dall'Associazione Amici del Certamen Ovidiano-Musulmonense. Tre opere murali realizzate sulle cabine elettriche dell'Enel di Viale delle Metamorfosi, piazza Marco Tullio Cicerone e piazza Tacito. La spiccata iniziativa a cura di Marco Maiorano mira la riqualificazione della città di Sulmona e la promozione della cultura classica, con particolare riferimento alla produzione letteraria di Ovidio. Ovidio, il poeta dell'amore e delle metamorfosi. L'iniziativa nasce nel 2011, quindi sono già tre anni che lavoriamo in questo senso. La finalità principale è quella di promuovere Ovidio, possibilmente, come in questo caso, con le immagini tramite l'arte visiva e portare un messaggio anche nella zona nuova della città, quindi congiungere idealmente il centro storico, che comunque ha delle testimonianze ovidiane, con la frazione di fonte d'amore e quell'area, quella anche celestiniana, che nella frazione di fonte d'amore ha proprio anche un richiamo immediatamente attribuibile ad Ovidio. Quindi noi stiamo decorando, facendo decorare, storiando, delle cabine e dell'Enel, che sono nella zona Pep, in particolare proprio in Viale delle Metamorfosi, e anche lì il richiamo Ovidio è immediato. Finora ne abbiamo realizzate tre, in seguito a un concorso appunto partito nel 2011. Vorremmo, e la presentazione di oggi ha anche questo senso, diciamo progredire, continuare il progetto, quindi chiudere con il percorso ovidiano, facendone altre due. Un progetto che andrà avanti lungo il tempo. L'associazione infatti si è posta come obiettivo alla realizzazione di altre due cabine, per contribuire a una valorizzazione completa del territorio e per realizzare un insolito ma affascinante binomio fra l'aspetto urbano e la cultura. In questo modo il murale ovidiano non è solo una competizione di traduzione, ma un'occasione per promuovere la figura del poeta latino-vidio, specie fra i più giovani. Una delle finalità è proprio questa, portare la poetica ovidiana tramite il messaggio artistico, in particolare le arti visive, anche ai giovani, a tutti in realtà, perché appunto queste testimonianze rimangono, sono lì visibili a tutti, l'arte urbana è pubblica ed è visibile da tutti. In particolare dai giovani è proprio lo strumento scelto, quello della street art, del muralismo, del writing, diciamo ci aiuta proprio a questo scopo.